Benvenuti a questa meditazione guidata per manifestare e visualizzare tutti i tuoi desideri. Lasciati cullare dalle dolci vibrazioni di questa campana tibetana e fai un bel respiro. Mettiti in una posizione comoda, se vuoi posiziona un cuscino sotto di te e preparati a concentrarti su te stessa per questi dieci minuti. Ti chiedo di focalizzarti sulla punta del tuo naso ed iniziare a respirare facendo partire questi respiri dalla tua pancia. Ora posiziona le tue mani verso l'alto, pronta a ricevere tutte le energie che produrrai durante questa meditazione. Porta l'attenzione sulla punta del tuo naso e fatti cullare dal tuo respiro. Con ogni respiro ti rilassi sempre di più ed entri sempre più in contatto con te stessa. Con ogni respiro entri in contatto con una parte di te che spesso ignori, una parte che è sempre in pace con se stessa. Una parte dove tutto è possibile e l'unico limite sei tu. Con ogni respiro infatti allontani le energie negative. Ogni volta che espiri allontani tutto ciò che ti blocca, tutte le tue paure. Con ogni respiro invece attiri le infinite possibilità che ti permetteranno di manifestare tutto ciò che desideri. Ogni qualvolta la tua mente dovesse sfuggire e pensare a qualcosa, riporta l'attenzione alla punta del tuo naso. Fatti cullare da questo respiro. E fatti cullare da questa vibrazione di pace che stai emanando. E fatti cullare da questa vibrazione di pace che stai emanando. Con ogni respiro entri sempre più in contatto col mondo delle infinite possibilità, con l'universo e con te stessa. Focalizzati sulla gratitudine, soprattutto verso te stessa. Per esserti presa un momento di totale pace. Di astrarti da qualsiasi sia la tua situazione corrente, positiva o negativa. Per aver scelto di alzare le tue vibrazioni e di cambiare la tua vita. Senti questa emozione, la gratitudine, in mezzo al tuo petto, radiare forte sopra ogni cosa. Senti la elevarti e farti sentire speciale, importante, grata, contenta, felice. Localizza questa emozione in una parte del tuo corpo, dove si trova. Sarà sempre lì. E adesso metti le tue mani sopra il tuo cuore. Cattura questa bellissima emozione dentro le tue mani. Cattura la vibrazione della gratitudine dentro ogni tua cellula. Se vuoi, pensa a tutte le cose per le quali sei grata. Ogni piccola cosa, prova a fare una lista nella tua mente. Cattura questa emozione. Cattura questo momento. E con ogni respiro, la gratitudine diventa sempre più grande, sempre più forte. E questa vibrazione ti avvicina sempre di più a ciò a cui desideri. Ecco, adesso riposizioniamo le nostre mani rivolte verso il basso. E facciamo dei respiri profondi. Butta fuori tutta l'aria stagnante dentro il tuo corpo. Le mani ben posizionate sulle ginocchia e continua questa forte respirazione. Fai uscire ogni piccola parte di te che ti mette in dubbio, che ti negativizza e lascia spazio solo alla gratitudine. Ed ecco che entriamo in una nuova parte di questa meditazione, dove per qualche minuto ci dedicheremo a visualizzare ciò che desideriamo. Ecco, ti chiedo di immaginarti in una stanza bianca, così come sei, circondata da bianco, pace, gratitudine e vibrazioni altissime. E ti chiedo di visualizzare per qualche minuto esattamente cosa desideri. guardalo davanti a te. Sei entrato in un mondo nel quale quella cosa è già successa e sta succedendo proprio davanti a te. come ti fa sentire. Ecco, senti quelle emozioni dentro di te, localizzarle dentro il tuo corpo. Con chi sei? Cosa stai facendo? Guarda ogni piccolo dettaglio di questa scena e catturala dentro il tuo cuore e dentro la tua mente. Ti fa sorridere? Ti fa provare cosa? Gratitudine? Senti tutte queste emozioni e se vuoi sorridi. Sta succedendo proprio davanti a te. Proprio come hai sempre sognato. E lentamente riporta l'attenzione verso il tuo respiro, verso il tuo collo, le tue mani. il tuo corpo. E se vuoi lentamente e dolcemente inizi a roteare il tuo corpo, il tuo collo. E sgranchisciti un po'. Senti questa vibrazione che hai catturato durante questa meditazione in tutto il tuo corpo e riportalo in vita. Piano piano. Fai un forte respiro. Metti le mani sulla tua pancia e senti questo forte respiro uscire da te. E adesso posiziona le mani sul tuo cuore e quando si senti pronta dolcemente apri gli occhi. vi auguro che tutti i vostri sogni si avverino. Fatevi cullare da questa campana tibetana e catturate le vibrazioni di questa meditazione. Namaste.